L'arcivescovo di Castellaneta, Monsignor Sabino Iannuzzi, ha incontrato una nutrita delegazione di agricoltori appartenenti alla CIA, la Confederazione Italiana, Agricoltori Italiani Area Due Mari. Hanno assicurato collaborazione e supporto in ogni attività, volta allo sviluppo della sociale, alla tutela delle fasce deboli della comunità e alla promozione del territorio. Per la CIA Due Mari presenti il Presidente Pietro De Padova e il Direttore Vito Rubino. Credo che oggi fare squadra è la risorsa fondamentale per dare un senso di unità e soprattutto un'esperienza di comunione per la crescita della persona all'interno del nostro territorio, ma soprattutto anche per la custodia di alcuni valori fondamentali. Oggi bisogna uscire tante volte da quelle solitudini che impediscono un cammino sinergico e soprattutto recuperare la bellezza dell'essere tra la gente, che è l'elemento più importante. La sinergia tra gli agricoltori, la chiesa, le istituzioni possono dare una mano a chi non ce la fa o a chi in questo momento si trova in difficoltà. Grazie. Grazie.